Un action movie? Beh, è mai stato fatto? Io staria. Marghera è nel caos. Due persone dalle idee eccezionali. Ah, Bea, da un grande potere deriva una grande responsabilità. No, amore, da un grande potere deriva una grande notorietà. Beatrice Bello, il canaia, nel primo action movie Veneto. Dalla città con furore. Grazie a tutti.